Itinerari fra gli olivi in un paesaggio unico alla scoperta di piante secolari, borghi e della bontà e della qualità dell'olio. E' quanto offre la prima camminata tra gli olivi che, promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, si svolgerà domenica prossima 29 ottobre e coinvolgerà in Umbria nove comuni. Foligno, Giano dell'Umbria, Montefalco, Spello, Spoleto e Trevi in provincia di Perugia e Arrone, Montefranco e Castelviscardo in provincia di Terni. La manifestazione è stata presentata a Palazzo Donini in regione, presente la coordinatrice regionale Città dell'Olio dell'Umbria, Irene Falcinelli, insieme all'assessore regionale all'agricoltura Fernanda Cecchini. Il senso è quello di voler valorizzare sin da subito il nostro paesaggio, il valore intrinseco dell'olio che è frutto di questi alberi, di queste piante che sono sotto i nostri occhi e la possibilità di passeggiare all'interno di essi, visitare anche quelle che sono le emergenze culturali, i beni culturali che ci sono, per esempio Spello si fa una passeggiata nell'acquedotto romano, altri comuni appunto visitano luoghi particolari, ci permette di far vedere come il paesaggio sia fondamentale per il benessere della persona, quindi è paesaggio, storia, cultura, benessere e soprattutto poi olio da degustare. L'olio come alimento dai valori nutrizionali veramente incommensurabili.